Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video col mio albero di sorry albero di cioè io l'avevo cercato su internet l'avevo messo le foto il mio albero di ciliegio illuminato perché io pensavo che fossero fiori di pesco e sono fiori di ciliegio quindi sì è un albero di fiori di ciliegio non so quanto questo possa essere rilevante ma la quarantena fa male soprattutto a me, a tutti ma io so come sto insomma questo è il fatto oggi ho pensato di fare questo video vlog giusto per tenerci compagnia c'è ovviamente un allarme che ha deciso di partire adesso, mi è spuntato l'herpes insomma, che meraviglia in questo video ci teniamo compagnia io oggi non vado proprio da nessuna parte stabbato, non vado proprio da nessuna parte semplicemente voglio truccarmi un po' per darmi un tono, giusto per stare in casa ho messo questa mega tuta quindi sono tutta bella, come si dice, comfy tutta bella pratica e morbida e coccolosa, enorme e così e questa è tra l'altro la vostra tuta preferita che ogni volta io provo a metterla ma è talmente felpata, è talmente spessa che qui a Napoli ci sono 19 gradi quindi calcolate forse adesso no però stamattina ci sono 19 gradi per cui fa caldo per essere dicembre io voglio ostinarmi a mettermi cose calde poi sudo e devo lavare tutto vabbè lasciamo stare proprio perché insomma è così, so che a Milano perché ho controllato che sentivo alcuni colleghi che dicevano che faceva freddissimo ci sono tipo 4 gradi e qua 19 fa troppo caldo per essere a dicembre e quindi oggi andiamo semplicemente a sistemarci per stare in casa direte perché? perché almeno questa gioia concedetemi di prepararmi un po' poi voglio farvi vedere gli addobbi gli addobbi natalizi che ho fatto e raccontarvi tutte le mie peripezie che se mi seguite su Instagram sapete che ci sono state una serie di sfortunati con la S fra parentesi eventi in questi giorni legati ai miei addobbi natalizi del tipo che le luci si sono fulminate tre volte vedete che ho anche qua molto molto rosso sapete che ho la pelle molto chiara questo è un segno ormai solo un segno di un brufoletto di un brufolone enorme che mi era spuntato già tanto tempo fa tipo 15 giorni fa e adesso è andato via io mi tocco il viso perché le mie mani non sono pulite di più perché le lavo mille volte al giorno quindi potete stare tranquille le mie mani sono pulite anche screpolate anche rotte ed esquamate perché sono esagerata ed ossessionata quindi su questo state tranquilli sto mettendo un po' di crema comunque vi dicevo che ho questo segno però per il resto non mi lamento del mio viso perché sta abbastanza bene anche non ho tante imperfezioni insomma quelle normale qualche segno ecco andrò ad applicare un po' di correttore sì e vado ad applicare questo che è il correttore di Clio oggi uso il numero 05 questo è il correttore oh my love a volte mi dimentico delle cose lo uso tutti i giorni ma mi dimentico cioè come si chiama dico il correttore di Clio vabbè applico questo correttore anche sul brufoletto anche su queste macchiette di qua perché tanto dobbiamo stare in casa quindi cioè è tutto un di più vi dico la sincera verità io mi trucco per vedermi meglio e poi per il fatto che è sabato sera mi trucco per non so far finta che uno poi vada chissà dove cioè non lo so però vabbè comunque diciamo che allora stare in casa è una cosa che mi piace mi piace tanto e quando potevo scegliere volentieri decidevo di stare a casa tante volte invece di uscire però adesso che ora in posizione adesso che sono lontana dai miei cari in modo forzato devo dire la verità mi dispiace mi dispiace tanto perché è passato ormai tanto tempo quindi mi auguro che al più presto questo virus possa passare in modo da andare a trovare le mie amiche che hanno portorito in modo da andare a trovare i miei genitori e la cosa principale che deve passare per il mondo intero per una questione nostra di salute non è che io deve passare e che io devo andare a fare queste cose perché posso vivere anche senza anche se mi dispiace perché dire posso vivere anche senza senza vedere i miei genitori insomma o vedere insomma andare a trovare le mie amiche eccetera eccetera certo fin quando non si può fare non lo facciamo però comunque capite che dopo tanto tempo anche chi ama stare in casa si sente cioè mancare no i rapporti con gli altri e sente mancare le relazioni sociali siamo fatti anche per stare con gli altri quindi lasciamo stare un ominamento perché anche tutte le cose che vi racconterò sulle luci le decorazioni cioè capirete sono cose sono cose marginali l'importante è avere la salute stare bene quindi cosa dovrebbero mai dire le persone magari che si sono ammalate che stanno male attualmente se è un minamento per le luci è un minamento per le luci perché voglio farvi divertire e farvi vedere che anche dietro una vita magari che sembra tutta patinata sembra patinata c'è una persona normale con le sue sfighe alla fantozzi e quindi per farvi ridere perciò vi racconto le cose che potrei anche dirvi oh mio dio il mio albero è perfetto invece no cioè faccio solo un guaio dietro l'altro e faccio ridere Gennaro tutto il giorno per utilizzare questa cipria di Kat Von D che è la Translucent che mi piace un sacco ho chiuso male non la riesco ad aprire ok l'ho riutilizzata dopo un po' di tempo perché sapete che io amo la cipria di Charlotte Tilbury ed uso sempre quella mentre ieri ho detto voglio utilizzare questa devo dire che mi pialla molto la pelle mi piace tantissimo vado a utilizzarla sia per settare il mio correttore e la utilizzo anche sul brufoletto insomma per settare anche sul resto del viso per settare la correzione sul brufoletto e porto quello che c'è sul pennello sul resto del viso devo dire che l'effetto mi piace tantissimo avevo dimenticato l'effetto di questa cipria sbianca un po' lo vedete anche nello schermino sbianca un po' però dà proprio questo effetto più all'alto mi piace un sacco mi piace veramente un sacco l'effetto di questa cipria e quindi facciamo così adesso vado ad applicare il mio mascara ed applico questo che è uno dei miei preferiti che è il Lush guardate le mie unghie e vado ad applicarlo come sempre ad occhio chiuso perché sapete che la mia specialità a me piace tanto applicare il mascara ad occhio chiuso per avere questo effetto diciamo cigliozze mi sono sporcata ok cigliozze finte perché mi sporco sempre poi però vabbè vado dopo vi faccio vedere con uno scovolino pulito e vado a diciamo raschiare vado a grattare un po' del mascara che si secca e poi si rimuove facilmente io mi sporco sempre soprattutto quando filmo perché poi parlo guardo lì poi guardo nello spettro guardo lì e non sono così multitasking io con uno scovolino vado a vedete rimuovere molto facilmente il mascara che era stato cattivo e si era spiaccicato sulla mia guancia mica l'ho fatto io vabbè adesso vado sull'altro occhio e vabbè comunque io sono proprio una passaguay guardate sono proprio una io sono sempre stata così eppure tu dici no con l'età si cambia ma dove cioè io non so se cambierò mai pezzi nei capelli cosa c'è ok comunque non so se cambierò mai perché sono proprio così le persone che sono a fianco si divertono si divertono quindi questo mi fa piacere quando potevo vedere amici eccetera si divertivano in mia compagnia e adesso direi di andare a applicare un po' di blush e vado ad applicare sempre questo di Kat Von D ed è Peony perché adesso se metto Alexa poi mi bannano il video perché è una canzone con copyright e io sto facendo così perché io io sto riproducendo non riesco a dire questo termine musica natalizia da un sacco di tempo quindi Alexa ormai abituata che io le chiedo sempre Alexa Alexa riproduci musica natalizia la stazione magia di Natale la rosa un'ese grazie Alexa stop Alexa stop stop che mi mette sempre la stessa oh se chiedi cento volte riproduci musica natalizia lei dice in ordine casuale mette sempre la stessa come prima perché dici in ordine casuale ma casuale di che se sono sempre le stesse io fra l'altro sono tutta storta ho più blush da un lato che da un altro ma tanto è per stare in casa tra l'altro l'altro giorno Alexa io le parlavo e a un certo punto mi ha detto mi dispiace non posso aiutarti ma allora ma le Alexa fanno tutte quante così fatemi capire che non sentono o non rispondono ai vostri comandi eccetera ai vostri ordini o solo la mia è così dispettosa metto un po' di matita questa è la matita Whirlaw di MAC che dovrei pettinare e pettinare oh dovrei temperare le pettino le matite io cavolo se le pettino ok io lo stavo come mi brontola cioè ho mangiato poco io perché stamattina ho detto faccio colozione abbondante e l'ho presa la lettera dopodiché ho detto faccio il pranzo più tardi sicuramente non avrò fame poi prestissimo così aspetto a Gennaro per la scena io ho già fame vabbè una cosa sicura del 2020 è che la fame non mi è passata è veramente male perché i piaceri della vita è almeno la tavola e mangiare e bere vive il vino rosso quindi solo se non siete minorenni perché io sono adulta e vaccinata e quindi vive il vino rosso adesso andrò a temperare bene questa matita perché in teoria mi sta spuntando l'herpes io penso di sì perché a volte quando ti sta spuntando e non è ancora grande non riesce a capire ci ho messo già un po' di cremina non riesce a capire se è lui quindi non lo curi subito e poi diventa abnorme ti deforma tutta la bocca me lo sento qui ma in realtà ho le difese immunitarie un po' basse ultimamente quindi erpes orzaiolo mi sembra che questo potremmo trasformarlo nel canale di un'anziana e a 30 anni sono così in realtà io allora mi faccio ridere quando andavo alle superiori forse questo ve l'ho già raccontato perché mi sembra quando andavo alle superiori c'era una mia amica che aveva le prime due pagine del diario tre pagine del diario annuale dedicate a me alle malattie di Marta oppure disturbi di Marta tipo giorno primo febbraio Marta ha mal di testa ha mal di pancia ha mal di schiena quindi non è che io sono così adesso perché sono invecchiata sono così perché sono proprio io una rompibip capite? anche quando non c'è nessuno io mi lamento con me stessa comunque sulle labbra vado a mettere questo che è il Pro Kisser di Fenty Beauty Lip Balm nella colorazione latte lips e a questo punto me la metto sul dorso della mano e col dito perché la matita vado a temperarla ma questo come faccio e quindi faccio così mi piace tanto questo prodotto di Fenty e speriamo che questo Herpes non mi diventi enorme che in teoria lunedì alla diretta come ogni lunedì e mi piacerebbe andarci con un mega Herpes ma ora che l'ho detto sarà sicuramente così ok io amo la mia cover natalizia e questa la scongelo ogni anno come si fa un po' per le canzoni di Natale diciamoci la verità tipo quelle di Bublé che io amo amo la sua voce però lo scongeliamo diciamo per il periodo natalizio quindi io ho scongelato la mia cover che oserò da qui fino al 6 quindi il 7 poi la toglierò Sad e quindi la toglierò questa è la mia cover natalizia e la amo comunque su Instagram mi ho chiesto se avete opinioni sulla scopa a vapore perché allora voi sapete che io sono ossessionata dalla pulizia del pavimento sono sempre lì che pulisco il pavimento e vi ho fatto vedere mentre stavo pulendo mi avete detto ma perché non provi la scopa a vapore e voi non dovete mai tentarmi perché io cioè comprerei tutte le cose possibili immaginabili per la mia casa un po' come ho la passione per le cose per la casa quasi grande come la passione per i trucchi quindi ok ecco mi ho dovuto cancellare dei file perché ho già parlato tantissimo però mi avete detto che i vlog lunghi vi piacciono comunque vi dicevo con me sfondate una porta aperta comunque mentre vi facevo vedere che lavavo il pavimento perché non camminiamo in casa con le scarpe però a meno cioè allora non camminiamo in casa con le scarpe e se vi seguite su Instagram sapete che mi è successo un altro sfortunato evento ossia che avevo ordinato dei mobili in realtà a fine settembre io capisco che a causa Covid ci siano ritardi comunque questi mobili mi sono arrivati qualche giorno fa avevo ordinato un'altra cassettiera che vi farò vedere dove tengo i trucchi tipo come queste però col pomello diverso perché adesso questa cassettiera la fanno con un altro pomello vabbè che comunque mi piace comunque vi dicevo avevo ordinato un'altra cassettiera una libreria che sopra volevo metterci borse scappe eccetera eccetera due armadi e un tavolino mi è arrivato tutto chiaramente dopo mesi e mesi di attesa la libreria non mi è arrivata rotta i ragazzi hanno scaricato chiaramente con la mascherina anche io avevo la mascherina qualche giorno fa tutti gli articoli mi hanno detto signora ci dispiace ma la libreria è rotta vi dicevo tornando indietro vi dicevo che poiché i ragazzi che sono venuti a montarmi i mobili erano con le scarpe da lavoro non potevo dire in questa casa non camminiamo con le scarpe togli le scarpe non mi sembra logico mi avrebbero ammazzato e quindi ho detto vabbè sono entrati hanno fatto le loro cose sono andati via io come una pazza ho subito pulito pulito i mobili dentro e fuori ho pulito a terra col moscio ho fatto vedere mi avete detto anche io sono così eccetera eccetera ma perché al posto del moscio non usi la scopa a vapore che senza detersivi eccetera ti sterilizza tutto io mi trovo bene con il moscio mi piace anche passarla mi piace lavare a terra non so so che sembra strano che una ragazza piaccia lavare a terra ma mi piace forse l'effetto finale che è il fatto che alla fine io sia tutta pulita abbia la casa pulita che sta di fresco che se cammino a casa so che sono igienica igienizzata so che non è possibile al 100% però comunque io mi impegno tanto quindi calcolate che il mio pavimento è pulito state sicuri su questo comunque vi dicevo che mi avete detto ma perché non prendi la scopa a vapore quindi fatemi sapere voi come vi trovate con la scopa a vapore durante il black friday ho preso questo profumo che era in offerta al 20% vedetemi se vi ricordate qual è è questo l'ipnose di l'ancome si dice così ed è uno dei miei profumi preferiti dell'adolescenza cioè io questo lo amo lo usavo tantissimo quando era adolescente e l'ho rivisto su questo sito e l'ho preso e io l'ho spruzzato sul microfono ok ed è mamma mia io lo amo sapete quando ho spruzzato un profumo che non sentivate da un sacco e vi riporta alla mente tutti i ricordi dell'adolescenza quei bei tempi quella libertà di abbracciarsi di stare insieme la scuola non lo so è allora è intensissimo è ottimo questo profumo io penso sempre che sarà sempre uno dei miei preferiti questo profumo qui l'ipnose un profumo intenso femminile proprio l'espressione della femminilità io non so perché non l'avevo più trovato e ogni volta trovo solo il formato enorme e poi ho trovato questo da 30 o 50 30 ml ve lo straconsiglio se vi piacciono i profumi che di solito acquisto io e magari sapete che abbiamo musti simili questo ve lo straconsiglio non smetto di toccarmi i capelli perché sono cioè inguardabili ingessibili oggi era meglio che li teniamo la fascia che era meglio anzi me la rimetto così non li tocca allora adesso cambiando argomento vi faccio vedere le cassettiere cioè la cassettiere aggiuntiva che ho preso che vi ho detto cambia pomello rispetto a queste qui cambia il pomello e vi faccio vedere come ho sistemato alcune aree insomma dello studio anche se io non sono ordinata pulita sì ma ordinata no ok eccoci qua questa è la cassettiera che ho aggiunto vi ho messo una luce qui perché era molto buio ho preso questa cassettiera e devo ancora riempirla perché mi serviva per altri prodotti che non so vi mettere che devo ancora sistemare vi faccio vedere che i cassetti sono molto profondi all'interno qui ho messo il mio kit con floor ma la vedete sono molto molto profondi e queste cassettiere io le preferisco rispetto a quelle di Ikea queste le ho prese dal mondo convenienza ovviamente non è sponsorizzato però ogni volta che vedete le mie cassettiere mi chiedete sempre e lo trovo che siano più belle più resistenti più compatte più grosse insomma più spesse rispetto a quelle di Ikea mi piacciono tantissimo quindi anche se ci mettono un sacco a consegnare non avendo io un'urgenza mi piace prenderle comunque vi faccio vedere come ho sistemato qui i profumi che uso di più ed eccole qui vi faccio una panoramica perché ve l'ho fatta anche su Instagram ho messo qui tutti i profumi che utilizzo di più vedete il The One mi piace tantissimo Dolce & Gabbana c'è un po' un gotie classic mi piace tantissimo poi questo profumo di Victoria's Secret anche mi piace tanto Scandalous poi il profumo di Makeup Delight Giuliana mi piace tanto questo profumo qui di Rihanna ve lo straconsiglio perché trovo che sia fantastico non so se è ancora in vendita perché era un'edizione limitata ma ve lo straconsiglio quindi qui ho sistemato tutti i miei profumi e lì ancora ne ho altri con alcuni rossetti non so perché non è a fuoco vabbè e poi qui ci sono gli smalti eccetera eccetera e poi il resto insomma lo vedete sempre come sfondo ai miei video qui c'è una nuova candela che ho preso che è di Yankee Candles ed è la candela allora questa l'ho presa sempre con il Black Friday quindi con gli sconti del Black Friday questa non era 20 euro però era scontata insomma di qualche euro perché è una nuova fragranza e questa è la Vanilla French Toast questa è una candela molto intensa tra le più intense che ho mai provato se la accendete anche solo mezz'ora vi profuma tutta casa cioè non in una stanza tutta casa e potrebbe risultare troppo forte per alcuni mi rendo conto ho una profumazione tipo di vaniglia biscottini non proprio di toast il French Toast che non ho mai mangiato però mai provato insomma però ha una profumazione molto forte tipo se volete una candela da bruciare per sempre tipo per 3, 4, 5 ore questa non ve la consiglio perché è troppo forte però se volete qualcosa per esempio da accendere quando avete cucinato e magari c'è un po' di odore di non so di fritto oppure volete profumare in fritto una stanza ve la consiglio questa poi parlando sempre di candela abbiamo questa che ho preso sempre con i Black Friday in sconto ed è la Angel Swings questa me l'avevate consigliata a voi perché avevo fatto un sondaggio su Instagram e avevo chiesto mi consigliate qualche candela sapete che mi piacciono le profumazioni dolci manigliate eccetera e questa per esempio è molto meno intensa meno invadente ti fa un po' compagnia con dolcezza e delicatezza quindi la sentite quando siete in una stanza ma non è così invadente come l'altra l'altra è molto più forte quindi per esempio a volte ho l'accendo in bagno e mi profuma tutta la casa cioè tutta la casa mentre questa comunque si sente soprattutto nella stanza dove la state bruciando e vi racconto un po' questa cosa perché ve l'ho raccontata su Instagram soltanto che se non mi seguite lì non lo sapete comunque io sapete ho fatto l'albero in anticipo quest'anno ed ho comprato due serie di luci entrambe sono andate a farsi benedire dopo pochi giorni dopodiché ne ho comprata un'altra e quella serie è andata a farsi benedire quasi subito al che ho detto o c'è un problema elettrico o c'è qualcos'altro ne ho presa ancora un'altra e va bene così vi faccio vedere il mio angolino felice natalizio abbiamo da questa parte lo schiaccianoci sulla sinistra che mi ha regalato la mia amica Luana e adesso la nuova giunta questo orsetto che in realtà è ripieno di cose da mangiare che mi ha regalato la mia amica Valentina sul tavolino che in realtà è una nuova giunta che poi metterò vicino al divano insomma se uno vuole bere qualcosa vuole appoggiare abbiamo questo che è il mio cammino finto che io amo alla follia ve lo faccio vedere sempre o lo si ama o lo si odia devo dire la verità piace la maggior parte di voi questo è un cammino appunto finto quindi ha semplicemente una funzione decorativa non produce calore è molto piccolino è molto carino io lo trovo super rilassante funziona con le mezze torce che ho scoperto all'età di 30 anni cosa fossero però mi piace molto molto rilassante e a me piace osservare le fiamme anche se sono finte perché mi ricorda quando ero piccolina mi mettevo davanti al cammino insomma fa molto Natale sopra ci ho messo questo quadretto di Natale un Babbo Natale questo è molto in stile Coca Cola e questo è un quadretto illuminato quindi abbiamo il Babbo Natale con l'albero le candele dietro e il camminetto ve lo faccio vedere anche spento così vedete la differenza fra acceso e spento quindi questo è spento e questo è acceso e adoro questi camminetti questi quadretti illuminati e sopra c'è un altro che è quello mio originale quindi ho preso prima questo e poi quello con Babbo Natale che mi piace forse anche ancora di più e questo è tutto illuminato qui sull'albero la ghirlanda no come si chiama questa vabbè lo sapete il camminetto ve lo faccio vedere anche questo spento e acceso ecco qui e cambiano anche le luci sull'albero qui sul cammino molto molto carino passiamo poi al mio albero questo è un albero innevato 2 metri e 40 con appunto decorazioni che ho scelto ho scelto di farle in oro quindi ho palline sia glitter che normali lucide sotto questi pacchi regalo che mi hanno fatto impazzire su instagram che sono bianchi e rossi che richiamano appunto il tema oro bianco e rosso che è quello che ho scelto per quest'anno e sulla finestra lì ho messo il Babbo Natale che adoro eccolo qui fatto così bianco e oro anche lui con le lucine ok ovviamente c'è la centrifuga questo è il mio divano queste federe di Natale qui ho la mia coperta che vi ho fatto vedere anche nel video sulle idee per i regali di Natale quindi eccomi qui sul divano io spesso mi metto qui sul divano con l'albero dietro mi sento felice anche se non ho più 15 anni però secondo me nella magia del Natale non è solo per chi ha 15 anni 12 anni 10 anni 2 anni a me piacerà sempre il Natale e penso che sia una delle poche gioie di quest'anno almeno per quanto mi riguarda anche se non parlo molto di me parlo tanto ma non tanto di me ho detto che questo è stato un anno pesante sia per quanto riguarda la situazione che tutti stiamo vivendo la salute insomma dei miei cari e in verità anche la mia anche se io non vi parlo di tante cose insomma ho avuto un sacco di preoccupazioni e magari quando mi sentirò di parlarne lo farò però credetemi non è stato un anno facile diciamo che ci sono queste gioie e le voglio vivere tutte secondo me non bisognerebbe mai giudicare poi soprattutto essere cinici soprattutto in questo momento perché abbiamo bisogno di un po' di dolcezza di un po' di gentilezza e di un po' di andare verso il prossimo con amore eccoci qui con il nostro caffettino che spero di non farlo cadere sul divano bianco che tanto ci tengo perché sarò la prima a sporcarlo ogni volta viene da ridere perché ripenso sempre al video che ho fatto con Nicole quando dicevo Time Frey buono qui buono qui perché c'è quella pubblicità del Time Frey che mi è rimasta impressa da quando ero piccolina in realtà faceva buono qui al cuore poi buono qui in bocca cioè quando lo bevi e invece ho fatto così nel video però io amo il caffè e mi chiedete sempre che caffè bevo non sponsorizzato bevo il caffè Borbore per quanto riguarda le capsule tipo quella che ho fatto oggi e quando voglio fare un caffè al volo mentre quando lo faccio al mattino faccio la moca caffè Kimbo proprio un classico non penso che vloggerò fino a stasera per il semplice fatto che insomma mi godrò un po' la serata con Gennaro quando sono andata a lavoro e per il fatto anche che ho parlato già troppo quindi questo video sarà già lunghissimo voglio fare vedere anche le altre Yankee che ho preso e darvi la mia opinione perché mi fate sempre domande sulle candele Yankee e quindi prima di chiudere voglio farvi vedere allora partiamo con questa che è la Christmas Magic che è la prima che ha aperto la serie delle mie candele natalizie ed è la candela che può descrivere il Natale io non ho letto le note ma posso dirvi che prima di farvi questo video posso dirvi che a primo impatto mi dà proprio al naso mi arriva come tipo odore di camino misto a biscottini con la cannella insomma sta proprio di Natale questa è bellissima e in più perché insomma il colore lo adoro e in più sta proprio di Natale non ve lo so spiegare se volete una candela sia da regalare che da regalarvi questa è una straconsiglia io potrei mettermi a vendere le candele sarei super credibile perché sono la prima ad acquistarle quindi prendetemi ok procediamo con questa che invece è la Christmas Cookie questa sa proprio di biscottino natalizio quindi di burro di zucchero di biscottini di Natale ok infine l'ultima che vi faccio vedere è questa che è la snowflake cookie a parte che è bellissima rosa e questa sa di biscottino sempre sono molto fantasiosa e tipo zuccherato va a descrivere così anche questa direi che è abbastanza natalizia come profumazione comunque questo era il vlog lo chiudo qui perché anche durerà cioè troppo e altrimenti durerebbe troppo e spero che vi abbia dato la sua compagnia e vi abbia fatto piacere passare qualche insomma un'ora insieme mezz'ora insieme insomma grazie per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo ciao ciao